Il dovere della memoria ma anche quello di guardare al futuro, alla vita che torna dopo dieci anni dal terremoto che ha sconquassato la città e messo in ginocchio decine di comuni. Sono stati 309 i morti causati dalla scossa di magnitudo 6.3 del 6 aprile 2009. A loro va principalmente il pensiero nell'anno del decennale del sisma. Dobbiamo disegnare l'aquila dei prossimi dieci anni, non fermiamoci soltanto ai consuntivi, dice il sindaco Pierluigi Biondi che anticipa gli eventi in programma e lascia un augurio ai suoi cittadini. Nel manifesto del decennale che abbiamo preparato a più mani con altri soggetti, istituzioni pubbliche, l'abbiamo definito il manifesto l'aquila città della memoria e della conoscenza perché l'aquila ha il dovere della memoria, ha il dovere della memoria di quello che è accaduto, ha il dovere della memoria del suo passato perché attraverso l'identità si costruisce anche il corpo della città. Ma l'aquila ha anche il dovere della conoscenza che significa progresso, che significa opportunità, che significa formazione, che significa istruzione, che significa lavoro, insomma che significa quello che forma una comunità. Il decennale deve avere anche il suo stile e la sua sobrietà, le generazioni, parlo del decennale. Quindi però è un percorso in cui troveranno luogo eventi sportivi importanti, uno lo abbiamo già annunciato è l'arrivo di una tappa del Giro d'Italia, definita dagli stessi organizzatori del Giro la tappa più importante di questa edizione del Giro d'Italia. Ce ne saranno altri che annunceremo strada facendo ma ci saranno convegni molto importanti, ci saranno incontri, seminari, dibattiti, ci sarà spazio per la cultura, ci sarà spazio per l'arte, ci sarà spazio per le tradizioni locali. Che augurio si sente di lasciare ai suoi cittadini? Ma che nessuno debba essere più costretto a lasciare l'aquila perché troverà in questa città la sua dimensione, la sua opportunità e che molti arrivino all'aquila perché l'aquila sta diventando una città moderna ed europea che può attrarre giovani e meno giovani.